Nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato di eccellenza, il girone B la battì Pagliese di fila cinque reti al Valdiano, scacciando le nubi di un momento molto difficile, combinato con sei sconfitte consecutive. Partita Cagliardi è combattuta da parte degli uomini di Enzo Fusco e messa subito in riga da una doppietta di Rocchino, prima della gloria personale anche per Asante, Iommazzo e Munard. Nell'ultimo minuto di recupero poi la rete della bandiera degli ospiti con Shoken, ex dell'incontro. Grazie a tutti.